Per chi non si accontenta dei soliti luoghi comuni, è il Casa Fashion, una vera boutique per pavimenti, rivestimenti, bagni, spazi benessere e arredi per l'esterno. Quando gli ambienti casa e lavoro sono espressione di stile e personalità, è il Casa Fashion, soluzioni eccellenti per clienti esclusivi. A Civitanova Marche, in via del Casone 15, quello che non c'era, ora c'è.